È difficile analizzare la partita perché non ho mai visto la squadra così difficoltà, così fragile. Penso che è tutta la responsabilità dell'allenatore, in questo caso mia, un primo tempo bruttissimo, senza coraggio, un po' fragile, persi totalmente a livello mentale. Penso che è la peggiore partita di quando sono qui. Non c'è niente da dire, mi dispiace per il pubblico, per la tifoseria, per il tifoso che magari vuole bene la propatria, però una prestazione del genere non me la potevo mai aspettare dopo che ci sia stata una reazione in settimana precedente, però la squadra senza orgoglio, senza qualità. L'ho messo troppa pressione per pensare che potevamo fare bene per portare a casa punti per andare in play-off, quindi magari è stata responsabilità mia di pensare che si poteva fare molto bene e magari… Ho fatto una partita storta, nata male, iniziata male. Dobbiamo ripartire, cercare di far quadrato a testa bassa con il lavoro, uscire da questo momento difficile, perché di questo si tratta un momento con qualche difficoltà e a volte… 3 partite in cui la squadra sicuramente meritavamo la campione, però una squadra che viene da 7 risultati negativi, quindi è rischiettata come l'Arcina e dentro la tendita in turno. Non è così, noi abbiamo fatto in queste ultime 5 partite, 3 partite molto positive che meritavamo più degli altri, ma così non è stato. O prima o dopo vai a centrare… Alla prossima